Questa soluzione arriverà sul mercato non con la vendita del singolo prodotto ma con la partnership di Talcementi. I Talcementi e Calcestruzzi hanno deciso di portare questo mercato offrendo le loro competenze alle committenze, quindi noi studieremo con le committenze il prodotto tailor made, lo seguiremo nella fase di applicazione e assicureremo il prodotto per la vita utile ed esercizio residua dell'infrastruttura riparata.